Non è questa la strada migliore. Oggi secondo me bisogna innanzitutto fermare questi disegni di divisione del Paese, bisogna aprire un ragionamento che coinvolga gli enti locali tutti, sicuramente le regioni, ma mi permetto di dire soprattutto le città. Se questo Paese vuole dare autonomia e quindi vuole dare forza ai territori deve partire dalle città e non a caso faremo una due giorni molto importante, 26 febbraio e 12 marzo, Milano e Napoli, l'Italia unita e coesa nella valorizzazione dell'autonomia delle differenze, due città diverse, due sindaci diversi che vanno a discutere di come l'Italia può ripartire, non con rancore, ma esattamente con l'unità nelle diversità. Perché non mi convince questa corsa invece al rafforzamento delle regioni? Perché le regioni in questi anni hanno dimostrato di non essere la punta di diamante della democrazia diretta e degli altoparlanti dei bisogni dei diritti dei popoli? Perché le regioni sono apparati lenti, apparati che hanno drenato denaro, apparati in cui la politica di un certo tipo è molto più forte. Quindi secondo me si deve aprire, questa è una legislatura che potrebbe durare cinque anni, quindi si deve aprire una riflessione sui rapporti tra città piccole e grandi, tra città metropolitane, tra regioni. Ecco, una riflessione che tenga dentro tutti, una riflessione che si apre nel paese, si apre con le forze sociali, con le forze economiche, con il popolo, con i parlamentari, con i consiglieri regionali, con i sindaci, con i consiglieri comunali, con tutti. Perché altrimenti noi rischiamo di fare degli strappi da una parte e dall'altra e quindi non è questa la strada, anche perché l'autonomia differenziata produce delle abnormità. Se pensiamo solo all'istruzione e alla sanità, ma potrei parlare anche di altri settori strategici del nostro paese. Quindi io credo che non è questa la strada. Bisogna fermare questo disegno di legge, non andare avanti, perché altrimenti se è partito con Lombardia e Veneto, già si è unita l'Emilia Romagna, adesso la Campania, però prima la Sardegna è verosimile che tutto è vendita in le regioni e quindi che l'autonomia differenziata è. Tanto vale che incominciamo a ragionare invece di una seria riforma ordinamentale su cui il paese, senza avere l'ansia di doverlo fare in 15 giorni, si apre una discussione, c'è una legislatura che è appena cominciata e si può fare un lavoro che coinvolga tutti e credo sia una cosa più seria. Se il volto del sud è quello del comune di Napoli che ha i debiti, i problemi economici e finanziari che insomma conosciamo, allora il nord fa bene a volersene andare. Beh qua viene un po' fuori quel sentimento un po' leghista che c'è in De Luca e anche ormai abbiamo capito che lui ha un'allergia non solo con il sindaco di Napoli ma anche con la città di Napoli, perché un giorno calcia a Pulcinella, poi si rende conto che fa la GAF. Poi insomma ho anche difficoltà a rispondergli perché non siamo in un ragionamento più politico ormai evidente, anche guardandolo per come si esprime e ha difficoltà ad esprimersi. Dovrei rispondergli con molta semplicità che il debito del comune di Napoli è un debito dei commissariamenti, è un debito che risale a epoche storiche centralistiche, è un debito dello Stato, di quello Stato di cui tra l'altro lui che è un esponente importante di un partito ha causato negli anni precedenti, è talmente semplice la risposta e potrebbe anche molto essere semplice la risposta nel senso di tenere che semmai noi in questa città stiamo rappresentando veramente un sud diverso, un sud che si riscatta, un sud di una città governata da otto anni senza risorse, che nonostante governi regionali come quelli di De Luca o governi nazionali è prima per cultura e turismo, è terza per start-up giovanili, è il primo set cinematografico all'aperto che rappresenta una politica dalle mani pulite che può guardare negli occhi andando a testa alta sulla questione morale, siamo un'esperienza totalmente antitetica rispetto a quella di De Luca che governa davvero da tanti anni nei nostri territori, forse quindi lui ha avuto un lapsus freudiano, parlava a se stesso quando faceva una critica alla città di Napoli, al suo sindaco.